Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori moto zappe vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo al video quindi cominciamo con la moto zappa masco cominciamo quindi con questa moto zappa masco un modello ideale per chi non ha un budget elevato ma vuole comunque un modello di buona qualità è il caso di questa macchina attualmente in offerta speciale è un modello molto pratico perché è elettrico in questo modo è facile utilizzare una moto zappa senza dover acquistare benzina inoltre sarà più silenzioso tuttavia ovviamente è più utile per i piccoli giardini con un terreno non troppo difficile la larghezza di questo modello è di 40 centimetri e la profondità di 20 centimetri poi troviamo la moto zappa icra continuiamo questa top con un'altra moto zappa di buona qualità è facile da usare con questo modello di icra ancora una volta abbiamo un modello elettrico che presenta molti vantaggi è un modello silenzioso e facile da usare per tutti l'aspetto positivo è che la larghezza di questo modello è regolabile quindi è possibile avere 17, 30 o 45 centimetri per quanto riguarda la profondità questo modello è leggermente migliore del precedente con una profondità fino a 23 centimetri e per finire ecco la moto zappa Honda per concludere vi presento ovviamente un modello più potente perché è un giardino grande e ha davvero bisogno di una moto zappa ad alte prestazioni in effetti si tratta di un modello molto potente perché è alimentato a benzina e quindi ovviamente molto più potente la larghezza è di 80 centimetri il doppio rispetto ai modelli precedenti e la profondità arriva fino a 35 centimetri quindi è perfetta per le grandi superfici ecco grazie per aver seguito questo video spero che ti sia stato utile non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere ti ricordo anche che ho messo i link ai prodotti e le migliori offerte nella descrizione puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video